buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda lezione della nostra storia romana che sarà dedicata ai sette re di roma abbiamo visto nella precedente lezione abbiamo cercato di fare un po di luce sui misteri delle origini di roma e ci eravamo arrestati all'operato del primo re di roma vala dire di romolo che era stato possiamo dire responsabile dell'istituzione delle prime diciamo forme politiche della città il re il senato e il popolo diviso come abbiamo visto nella precedente lezione in curie ed ecurie per ovviamente far fronte alle esigenze militari della città ora ci occupiamo invece dei successori di romolo ho visto in chiusura come plutarco nella vita di romolo ci illuminava sul fatto che la morte di romolo non era stata ovviamente un'assunzione al cielo bensì un assassino da parte di chi da parte delle famiglie patrizia dei patres ormai intolleranti verso l'assunzione da parte di romolo di un potere di tipo tirannico ed ecco quindi nel periodo successivo che va dalla morte di romolo fino al 509 anno di fondazione della repubblica romana possiamo distinguere la monarchia come divisa in due gruppi distinti una prima di cui fanno parte romolo numa pompiglio tullio stiglio e anco marzio una monarchia per delega avevamo visto l'altra volta come alla morte di un re il potere ritornava formalmente sostanzialmente nelle mani del senato che poi lo attribuiva di nuovo al successore quindi non era una dinastia non c'era un meccanismo ereditario della smissione del potere ma era il senato depositario quindi del potere che lo affidava di volta a volta a un re cosa che quindi ci fa diciamo trovare questa definizione di monarchia per delega e che è valida per i primi quattro sovrani seguita poi da una fase invece di monarchia etrusca quindi con sovrani di origine etrusca che è quella di tarquinio prisco serbio tullio e tarquinio il superbo l'ultimo re di roma poi cacciato nella famosa cacciata dei tarquinio che vedremo successivamente che dà il via alla repubblica quindi i quattro re i quattro primi sovrani furono e bisogna dirlo in apertura in perfetta alternanza fra romani e sabini avevamo già visto l'altra volta come fin dagli albori fin dai tempi quantomeno per attenerci alla tradizione della monarchia romulea i romani si erano fusi etnicamente con popolazioni di origine sabina che vivevano poco a nord di roma da qui il famoso episodio di cui abbiamo parlato l'altra volta del ratto delle sabine e da dire che la tradizione cosa fa attribuisce a questi primi quattro sovrani della monarchia per delega l'ideazione di la creazione delle principali funzioni della società romana quindi a romolo spetta l'invenzione delle istituzioni politiche a numa pompiglio quelle religiose a tullio tullio stilio invece e anco marzio avrebbero rispettivamente il primo ampliato i confini di roma e il secondo sviluppato la città sotto il profilo economico questa ripartizione delle funzioni attribuite funzioni che sicuramente avevano subito un lungo processo di formazione storica attribuite invece al singolo personaggio ha fatto dire a george dumesil storico delle religioni storico della società indoeuropee del ventesimo secolo che in sostanza veniva applicata alla storia di roma la teoria delle funzioni comuni delle società primitive del ceppo indoeuropeo che erano quindi funzioni ad esempio quella politica quella religiosa quella militare che facevano erano tratti comuni delle di tutte le civiltà indoeuropee quindi la leggenda dei sette re di roma trasmetteva che cosa trasmetteva l'affermazione della funzione legislativa di quella guerriera e di quella produttiva economica che sono le tre funzioni principali delle popolazioni indoeuropee quindi possiamo dire con certezza che la realtà ha certamente ricompreso un numero maggiore di sovrani eventualmente anche di usurpatori perché no nel quale le novità che venivano attribuite che la storia ci tramanda come attribuite singolarmente a questo o quel sovrano si sarebbero invece affermate ovviamente gradualmente con un processo storico complesso e più lungo è una è quanto abbiamo già visto l'altra volta che prende il nome di concentrazione eziologica cioè le cause vengono accorpate accorpate in questo caso nella figura del singolo sovrano venendo quindi al secondo numa pompilio che sarebbe stato re secondo le fonti a partire dal 715 era originario appunto della sabinia come abbiamo detto prima in alternanza fra romani e sabini della città di cures che si troverebbe a 50 km a nord est di roma ed è rappresentato nelle fonti come un uomo dal temperamento mite ed esperto di questioni religiose rapio numa pompilio e a lui quindi viene attribuita la fondazione del tempio di giano giano è la divinità giano di fronte che guarda sia avanti che indietro è colui che dà il nome al mese di gennaio che quindi guarda a dicembre al passato ma guarda anche all'anno futuro all'anno venturo e l'istituzione poi dei sacerdoti i sacerdoti flamini che erano coloro che vigilavano sul culto di giove marte e quirino quindi diciamo le magistrature sacerdotali di roma sono attribuite tutte a anco marzio nonché anche l'ultima e la più importante che quella del pontifex maximus il pontefice massimo che era la suprema carica religiosa della città e che aveva anche compiti civili in questa commissione in questa fusione dei due ambiti civile religioso che tipica della storia antica e lo vedremo molte volte tipica della storia romana aveva anche il compito di a redigere le tavole annuali le tavole pontificali che riportavano gli eventi più importanti di ogni anno in contrasto invece con il governo del predecessore quindi con il governo di Numa Pompiglio il regno di Tullio Stiglio che sale al potere sempre secondo la tradizione del 673 quindi Numa Pompiglio governa per 42 anni fu caratterizzato Tullio Stiglio dalla presenza costante di guerre contro i popoli del Lazio gli albani ad esempio con la celebre sfida fra Orazzi e Curiazzi vale a dire la sfida per dirimere la contesa tra le due città affidata ai tre fratelli Orazzi e i tre Curiazzi che dovevano sfidarsi a morte per stabilire quale delle due città fosse la vincitrice conosciamo lo stratagemma con cui l'ultimo Razio trovandosi tre contro uno ma sapendo che i due Curiazzi su tre erano feriti si diede a una finta fuga in modo da poter essere inseguito a velocità diverse da avversari che erano in condizioni fisica diversa e quindi di poterli affrontare e uccidere singolarmente questo è lo stratagemma della vittoria degli Orazzi e poi gli scontri con i Sabini perché attenzione la fusione con i Sabini di cui abbiamo già detto più volte non è una fusione con una popolazione intera ma con la parte più vicina di etnia Sabina però più vicina ai confini con Roma ma in realtà la popolazione Sabina occupava un territorio ben più ampio e gli Etruschi. Altre fonti affermano che lo stato di tensione che vigeva fra Roma e le popolazioni vicine nonché fosse dovuto anche alla decadenza di Alba Longa la città fondata dal figlio di Enea Ascanio detto anche Iulo che era la città fino alla fondazione di Roma più importante anche perché sede del culto di Giove Laziale. L'estremo bellicismo di Tullio Stiglio secondo la leggenda gli costò caro perché Giove indispettito da questo atteggiamento così violento e appunto bellicista di Tullio gli fece arrivare un fulmine sulla testa togliendolo di mezzo e quindi dopo 33 anni di regno siamo nel 640 tocca al quarto sovrano che è Ancomarzio che venne eletto dal popolo abbiamo già visto dalle curie dall'assemblea dei comizi curiati che trasmettevano l'ex curiata dell'imperio con il consenso del senato ovviamente e a lui è legato all'espansione di Roma fino ad Ostia quindi alla fondazione proprio del porto di Ostia di cui importanza è inutile sottolineare perché è assolutamente robbia. Però alla morte, alla sua morte Anco avrebbe poi lasciato il regno secondo la tradizione storiografica di un ricco immigrato quindi addirittura uno straniero etrusco della città di Tarquinia o meglio conosciuto con il nome di Tarquinio, Prisco. Secondo numerose fonti antiche si trattava del figlio di un commerciante greco di nome Demarato che era fuggito in Etruria per sfuggire alle persecuzioni del tiranno dell'epoca della città di Corinto, Cipselo. Cicerone in questo piccolo estratto dal secondo libro della Repubblica ci racconta che Tarquinio, ottenuta facilmente la cittadinanza romana, quindi di nuovo questa idea che già avevamo visto l'altra volta di Roma come società aperta, per la sua gentilezza di costumi e per la sua cultura, divenne così intimo del re Anco da essere creduto partecipe di ogni suo disegno e quasi socio del suo regno, così come Tito Tazio era stato associato al potere di Romolo. Pertanto quando Anco morì, Lucio Tarquinio, che così aveva montato il suo nome per mostrare di aver assimilato tutte le usanze del popolo romano, fu creato re per un'anime votazione del popolo. Qual è il dato storico che possiamo ricavare da questo estratto? Vale a dire che vengono sostanzialmente testimoniati intensi rapporti tra Roma e l'Etruria e in qualche modo un passaggio pacifico di Roma sotto la dominazione etrusca. L'Etruria era organizzata secondo città-stato, in questo caso ci dice la tradizione, possiamo ricavare la tradizione, che Roma intorno quindi alla seconda metà del VII secolo passò pacificamente sotto la dominazione etrusca. E a Tarquinio, Tarquinio Presco o Lucio Tarquinio come lo chiama Cicerone, si avevano numerose imprese militari contro Sabini e Latini e contro gli stessi etruschi. Non ci dobbiamo stupire che un sistema regolato sul città-stato fosse conflittuale proprio interno, abbiamo visto in tutto il primo volume dedicato alla storia greca. Notevoli furono anche però gli interventi di ingegneria civile, come gli importanti lavori di fortificazione della città, quindi le mura, rinforzare le mura e l'opera di canalizzazione delle acque cittadine, nonché il sistema fognario meglio conosciuto con il nome di cloaca maxima, quindi il sistema di fognature della città. Iniziò poi i lavori del Tempio di Giove Capitolino per sciogliere un voto fatto al dio Giove durante la guerra contro i Sabini e introdusse alcune usanze di rappresentazione, di simbolismo del potere che sarebbero poi rimaste nella cultura, nella storia istituzionale romana. Ad esempio la corona d'oro, il trono d'avorio, lo scettro con l'aquila appollaiata sulla cima, la tunica purpurea decorata in oro e gli stessi fasci, che cosa sono i fasci che noi tristamente conosciamo anche per la nostra storia più recente, sono un insieme di verghe legate ad una scure ed erano niente meno che lo strumento e il simbolo del potere di fare che, di combinare delle pene, cioè la pena della fustigazione o, attenzione alla scure, ovviamente la decapitazione ai condannati. Non è un caso ovviamente che i fasci di combattimento di Mussolini nascono con questo simbolo perché si arrogavano il diritto di combinare delle pene, no? Il bienio rossio, gli attacchi alle sede sindacali, gli scioperanti, gli operai e i braccianti agricoli e così via. Però questa simbologia cosa ci fa capire? Ci fa capire che avvenne in qualche modo una crescita dei poteri regali, quindi della sovranità del re, nella fase della monarchia etrusca, a discapito ovviamente dell'autorità del senato, il senato che era composto dalle famiglie patrizie di più antica origine romana. Quindi il suo assassino, che le fonti ci trasmettono essere avvenuto in un contesto poco chiaro, possiamo dire che è testimonia dei rapporti tesi fra l'elite etrusca, che governava la città attraverso l'istituto della monarchia e l'aristocrazia romana, nonché l'affermarsi di un principio dinastico su quello elettivo che era stato mantenuto fino ad Ancomarzio. Ma cosa succede alla morte con l'assassinio di Carabinio? Vedete come praticamente tutti i re di Roma in ogni caso non fanno una bella fine se anche pensiamo che Romolo fu fatto a pezzi e fu inventata la leggenda della sua assunzione in cielo. Però figura chiave del secondo periodo monarchico è il successore di Tarquinio, Servio Tullio, anche egli di origine etrusca, e indicato dalla storiografia antica come l'autore di una riforma che potremmo dire la più importante, la più fondamentale per l'assetto politico costituzionale e sociale della nuova città di Roma, perché era una riforma dell'assetto militare della città, la cui introduzione però deve essere per forza storicamente collocata in un'epoca successiva, dal momento che, adesso lo vedremo, presupponeva un'organizzazione censitaria, complessa, difficilmente esistente in età della Caffina. Cosa introdusse quindi la riforma di Servio Tullio? Introdusse uno schieramento oplitico alla greca, quindi in luogo delle legioni che erano fornite dalle curie, 3.000 fanti e 300 cavalieri secondo la riforma, o meglio l'introduzione della divisione in curie fatta da Romolo, ecco che l'esercito veniva ad armarsi alla greca, quindi con soldati di fanteria e di cavalleria, ma soprattutto quelli di fanteria armati con armatura pesante. Quindi l'esercito prevedeva un gran numero di soldati armati alla pesante gli oplites. Quest'introduzione fu indubbiamente resa possibile, benché non possiamo attribuirla interamente a Servio Tullio, però fu resa possibile da un cambiamento delle basi socio-economiche della città, con un allargamento della base democratica, quindi della base del popolo, e con la presenza di un elevato numero di cittadini benestanti, perché? Perché dovevano potersi permettere l'armamento alla pesante che era a loro carico, non era lo Stato esattamente come nelle poleis della Grecia che ti forniva l'armamento, bensì dovevi fornirtelo a seconda delle tue sostanze, ecco qui, quindi l'organizzazione censitaria. Quindi il sistema dominato dall'aristocrazia di nascita entrava in crisi rispetto al valore della ricchezza individuale, che era fondamentale per l'arruolamento. I comizi centuriati che questa riforma attribuisce anacronisticamente a Servio Tullio furono quindi delle vere e proprie assemblee del popolo in armi, dal momento che ogni cittadino veniva inquadrato militarmente e valutato per la sua capacità economica di contribuire al proprio armamento. Ecco qua le varie classi di censo. Vediamo come venivano suddivise, perché tutti i cittadini, quindi maschi, adulti e liberi, furono distribuiti in cinque corrispondenti classi di censo, corrispondenti a cinque livelli di ricchezza. A loro volta ogni classe veniva divisa in centurie. Quindi si trattava complessivamente di 193 centurie di cittadini divisi in cinque classi di censo. La prima era composta da coloro che avevano un capitale di almeno 100.000 assi, la seconda di quelli che arrivavano a 75.000, la terza 50.000, la quarta 25.000 e la quinta 12.500 assi di reddito annuale. Ora, la prima classe, lo vedete anche nella tabella riportata in alto a destra, forniva all'esercito 18 centurie di cavalieri, 40 centurie di fanti juniores, vale a dire di cittadini di età compresa tra i 18 e i 46 anni, che erano il nucleo portante dell'esercito, e 40 centurie di señores, quindi soldati più anziani che fungevano da riserve. La seconda, la terza e la quarta classe fornivano ciascuna 10 centurie di juniores e 10 di señores. La quinta, infine, forniva 15 centurie di juniores e 15 di señores. A queste, e ricordiamo la cavalleria sta solo nella prima classe e poi la determinante, poi per il numero dei voti lo vedremo, a queste quindi 188 centurie complessive si dovevano poi aggiungere due centurie del genio militare, due centurie di musici ed un'unica classe invece di proletari, classe che equivaleva anche alla centuria, una classe e una centuria, cioè i nullatenenti che non potevano armarsi ed erano quindi addetti alle mansioni più umili. Ovviamente i patrizi si collocavano nelle centurie più elevate, ma anche i cittadini facoltosi non di origine patrizia potevano ambire ad essere collocati a seconda del proprio reddito all'interno delle prime classi. In ogni caso, quando queste classi si riunivano con le centurie che fornivano nelle assemblee, nei comizi centuriati ed esprimevano i voti, quindi era un'assemblea politica, la prima, grazie alle 80 centurie, 18 di cavalleria, 80 di fanti e 18 di cavalleria, aveva la maggioranza su tutti i voti delle altre messe insieme, di conseguenza si trattava di una riforma dell'ordinamento che manteneva ai vertici della condizione economica anche il potere politico. Ecco come funziona la riforma centuriata di Servio Tullio. Però sempre nell'ottica di superamento dell'ordinamento curiato, che viene così quindi superato dell'ordinamento centuriato, andava anche la riforma, sempre attribuita a Servio Tullio, delle tribù romane. Avevamo visto le tre tribù create da Romolo, Ramnes, Luceres e Tities, che non venivano quindi più ripartite sulla base di un principio gentilizio, quindi di nascita, bensì su un principio geografico urbanistico, un po' come la riforma dell'attica di Clistene. In base alla residenza dei cittadini, quindi vi erano quattro tribù urbane e quindici tribù rustiche, quindi di campagna. Dionigio Licarnasso, nella storia di Roma Arcaica, al libro 4, ci dice che stabilì poi che le leve militari e le imposte sui beni, le tassazioni anche, dovute per spese militari e gli altri servizi che ognuno doveva prestare alla comunità. Non dimentichiamoci la natura di Roma come città-stato e vale quindi quanto già detto in termini generali per la polis greca, quindi l'individuo che è parte sostanziale, essenziale, insieme degli individui della polis. La città è formata dall'insieme dei propri cittadini, quindi devono contribuire alla comunità, quindi dice gli altri servizi che ognuno doveva prestare alla comunità. Non fossero più espletati all'interno delle tribù genetiche, quindi quel principio gentilizio di cui dicevamo poco fa, ma secondo questa divisione territoriale che era stata da lui operata. Quindi indipendentemente dal principio di concentrazione eziologica di cui abbiamo detto più volte e di cui è sicuramente protagonista Sergio Tullio con questa riforma così complessa, dalla parte finale di questa monarchia etrusca occorre ricavare alcuni dati. Il primo è l'introduzione del censimento, census, perché classi censitarie in base al reddito, se non contavamo e non mettevamo i cittadini ognuno nella propria classe di censo, certo non avremmo potuto operare questa riforma. Quindi accertando la condizione economica dei cittadini contribuì a creare un sistema di più equa ripartizione tra i cittadini e i diritti e i doveri che i cittadini avevano e dovevano corrispondere alla comunità. Cioè chi più aveva, si aveva il potere politico perché i comizi centuriati erano riservati a lui, alla prima classe sostanzialmente, ma aveva anche compiti maggiori nei confronti della comunità. Però questa riforma rappresentò anche l'inizio di un'amministrazione centrale organizzata, perché le pratiche burocratiche amministrative con le quali bisognava procedere a un censimento ovviamente richiedevano un certo tipo di organizzazione, che quindi qui inizia questa che è una delle grandi caratteristiche della storia romana. Inoltre la tassazione, il termine tributus, che appunto vuol dire tassa in latino, deriva dal termine tribù e quindi la tassazione venne così commisurata alle possibilità dei singoli e legata all'azione militare. Ecco qua. L'esercito fu ripartito fra cavalieri, opliti e infraclassem, vale a dire coloro che, l'abbiamo accennato prima, non potevano provvedere da soli al proprio armamento o non potevano combattere. Infine l'organizzazione in centurie e in tribù rimase profondamente radicata nella struttura politica romana dei secoli successivi. Questa è ancora la, fino a potremmo dire, la seconda metà, la fine del secondo secolo, con poi le trasformazioni che la Repubblica imperiale comporta e i nuovi meccanismi di arruolamento di Mario, di Silla e dei grandi condottieri delle guerre civili e così via, però rimane l'ordinamento su cui Roma e la Repubblica romana fondano poi la propria grandezza e la propria espansione. Quindi un legame del cittadino con la comunità in termini di doveri di contribuzione legati al suo ruolo di cittadino soldato. La tradizione vuole poi che Sergio Tullio fosse assassinato anche lui, tanto per cambiare, in una congiura ordita da chi? Ordita dalla figlia e soprattutto dal genero Lucio Tarquigno che era il figlio di Tarquigno Prisco, che quindi in questa ottica già più dinastica del potere monarchico pensava di avere diritto al trono di Roma. Quindi quest'ultimo, Lucio Tarquigno prese il potere contro la volontà del senato dopo l'assassinio di Servio Tullio, guadagnandosi l'epiteto di Tarquigno il Superbo. Perché? Perché negò la sepoltura a Servio Tullio e perché soprattutto governò in modo dispotico per tutto il suo regno. E la storiografia, che peraltro su questo re è abbastanza tarda, descrive quindi Tarquigno il Superbo come un re dispotico che governò senza il parere del senato e amministrò la giustizia in modo arbitrario appoggiandosi a popoli stranieri contro gli stessi interessi dei suoi concittadini, contro gli stessi interessi romani. Ci dice Livio nel primo libro del Aburbe Condita che primo fra i re venne meno alla norma seguita dai suoi predecessori di consultare il senato su ogni questione e governò, quindi una monarchia assoluta potremmo dire, e governò lo stato con private deliberazioni, quindi per un interesse arbitrario dispotico. Fece e disfece da solo la guerra, la pace, i trattati, le alleanze a suo arbitrio con chi volle, senza consultare il volere del popolo e del senato. Quindi queste sono le caratteristiche dell'ultimo re di Roma. Il comportamento poi dei suoi stessi familiari contribuì a renderne ancora più odiosa la figura perché il figlio, Sesto Tarquinio, si macchiò del crimene che portò letteralmente al crollo della monarchia. Si racconta infatti che avesse violentato la virtuosa e pia moglie del nobile romano Lucio Tarquinio con latino la povera Lucrezia. La donna, fedele alla virtù e al coraggio delle donne romane, pur innocente, si suicidò per la vergogna. Dopo aver però denunciato il marito, l'aggressore, quindi aver rivelato chi fosse stato a violarla, e chiedendo al marito, appena prima di togliersi la vita, di vendicato. Con latino quindi giurò che avrebbe cacciato i Tarquini dalla città e il nobile che andiamo a ricordarci, Lucio Giugno Bruto, che era presente al suicidio di Lucrezia e che con un discorso richiamò la cittadinanza al dovere pubblico della vendetta, diede inizio alla rivolta nelle fonti. Infatti questo Lucio Giugno Bruto è ricordato come niente meno che il liberatore di Roma, dalla tirannia, della monarchia, è il fondatore della Repubblica Romana, è lui Lucio Giugno Bruto. Quindi però, vedremo poi della prossima volta le istituzioni approfonditamente della Repubblica degli esordi, però è bene dire in conclusione che l'ordinamento successivo, pur mantenendo le riforme introdotte da Servio Tullio soprattutto, cambiò di fatto i vertici del governo, quindi non più una monarchia e non più una carica vitalizia, seppur gestito dal Senato, ma uno sdoppiamento della sovranità ai vertici come elemento di garanzia repubblicana, cioè come per evitare che tutti i poteri di governo si concentrassero nelle mani di una singola persona. Quindi è qui che nascono i consoli, è qui che nasce il principio della collegialità delle magistrature romane. E i poteri, lo vedremo bene la prossima volta, i poteri politici vennero concentrati di fatto nell'altro organo fondamentale istituito da Roma, che era appunto il Senato. Ebbene, finiamo così la seconda lezione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!